Per dirla all'Ubrano la domanda sorge spontanea, ma fare il sindaco a Sansepolcro è proprio così difficile? Intanto l'ultimo che ha bissato il suo mandato è stato nel 1999 Dario Casini, che a capo di una coalizione di centro-sinistra venne confermato sullo scranno più alto di Palazzo delle Laudi. Nel 2004 il successo dell'avvocato Alessio Ugolini confermò la maggioranza di centro-sinistra, ma ampliò i disidi interni che dopo due anni portarono alla caduta dello stesso Ugolini con tanto di emozione e di sfiducia e all'arrivo del commissario. Si torna a votare il 28 maggio del 2006 e Franco Polcri si impone con una lista civica appoggiata dai partiti di centro-destra, una vittoria che sovvertì i pronostici della vigilia. Ma non sarà una legislatura facile anche per lui, visti i difficili rapporti interni della sua maggioranza e alle comunali. Nel maggio del 2011 il PD gioca la carta di Daniela Frullani, già sindaco di San Giustino Umbro, che si impone al ballottaggio proprio su Fabrizio Innocenti, che era riuscito ad amalgamare una coalizione di centro-destra. Ma anche la Frullani, nonostante l'abbraccio con Ratzinger, non venne confermata perché il 5 giugno del 2016 Mauro Cornioli vinse alla grande in maniera semi-plebiscitaria con una lista trasversale in tutti i sensi. La pandemia, preceduta dall'affaire Puleto, hanno messo a dura prova la tempra del sindaco che ha pagato Dazio anche ai problemi con la sua maggioranza. Un mese fa Cornioli fece un passo indietro e decise di non ricandidarsi. Il 4 ottobre il nuovo sindaco dovrà pensare anche a sfatare questo tabù che agita il quadro istituzionale Biturgenze.